Un quadro a luce e ombre è quello della situazione dell'oristanese a cavallo tra il 2021 e il 2022 stilato da Confcommercio Oristano a partire dai settori del commercio e della ristorazione. Secondo i dati Union Camere, Ufficio Studi di Confcommercio, nel settembre 2021 a fronte di quasi 3.000 imprese del commercio esistenti in provincia di Oristano ne sono state chiuse 64. 8 su 800 nello stesso periodo i bar e i ristoranti che hanno abbassato le serande definitivamente. Un dato numericamente non troppo allarmante ma d'esta preoccupazione è la frenata dei consumi dall'inizio 2022 probabilmente dovuta, secondo Confcommercio Oristano, all'inflazione e alla preoccupazione legate alla situazione internazionale. E per il turismo, alla luce delle prenotazioni esistenti, le aspettative sono alte per l'alta stagione ma fino a metà giugno, quando il comparto vive principalmente del turismo interno, i numeri sono ancora lontani da quelli del 2019. C'è da investire nel commercio, bisogna aiutare le imprese commerciali e dei pubblici esercizi a fare innovazione e quindi migliorare l'efficientamento energetico, a modernare i propri esercizi, favorire la digitalizzazione di queste attività perché il futuro ormai è da quella parte e le piccole attività commerciali, soprattutto quelle storiche che hanno più di 50 anni di attività, che sono un presidio dei nostri centri storici, è bene che siano tutelate. Quindi il nostro invito è alla politica nazionale e locale ad investire su queste attività favorendo misure di incentivazione adeguate.